Oh, Ferrenicchi! Sì! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Non impazz... respira! Oh mio Dio! Non l'abbiamo visto! Ma infatti diceva perché non stai impazzando? Oh mio Dio! Oggi ti ammazzano! Secondo me dovrò abbassare in tutto il video le urla di Ferrenicchi! Oh mio Dio! Cliccalo! Cliccalo veloce! Non ci credo! Io la cittano fuori in terra adesso! Io non ci credo! Ehi ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Pokémon GO! Oggi siamo tornati al porto di Cagliari e attiveremo tre Pokestop! Esattamente! Abbiamo trovato un buon punto, sembra un punto strategico e un po' scomodo Credo che notate anche una differenza di videocamera perché praticamente il fratello di Veronica aveva bisogno della videocamera Quindi stiamo usando il mio cellulare Credo che farà abbastanza schifo, non lo so Abbiamo fatto giusto qualche test per l'inquadratura È un po' scomodo Però dovrebbe andar bene Allora inizia... Speriamo di non uscire con le teste tagliate Esatto! Inizia a catturare questo bellissimo stadio, va? Bellissimo, bellissimo! Sbagliato, cliccato qua È scomparso Scomparso Come? Come? Allora... Stai già portando sfiga e te lo dico Ce la fai? Certo che ce la faccio! Sei sicura? Sì 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 Clicca! Brava! Sì ok Allora in realtà i Pokéstop sono quattro Sì però saremmo dovuti restare Guardate, ve lo facciamo vedere In quell'angolino lì insomma Ed era un po' fastidioso Sia perché passava un sacco di gente Sia perché passavano, non so chi, macchine che facevano troppo rumore Credo che ce ne sarà anche qua Uh! Magikarp! Subito! Primo Pokémon! Sì! Vai 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 Allora, togli esatto Usare le Pokéball Che è tanto uscito da 18 di potenza Davvero Il peggio... Il peggio meglio I Carpepper è meglio Perché dovendone catturare tanti Se almeno sono facili da prendere Sinceramente è meglio È un peccato perché avremmo voluto fare tutti e quattro i Pokéstop Ma appunto Penso che il modo migliore sarebbe stato di stare in mezzo alla strada Non mi sembra il caso Sì, credo che sarebbe meglio evitare certe cose Non mi sembra il caso Ok Prossimo Pokémon Eccans Eccans Uh! Bellino! Crabbi! Lo sapevo che attivare tre poche stop vicino al mare Finalmente avrebbe portato qualcosa Eh, esatto Da quanto era di potenza? Abbastanza Era arancione Non l'ho guardato, scusami Ok, potevi usare una Megaball allora Usa una Megaball, vedi? Non scappare Non scappare Non ci provare, guarda Vai Vai Ti fai saltellini Guardalo, l'ho preso mentre saltava Hai visto? Hai visto? Hai visto? Io sto tenendo la videocamera con due mani No, infatti Perché la devo tenere in altissimo Per avere la stessa incontratura dell'altra Esatto, infatti Non la sto tenendo io Perché non riuscivo a tenerla abbastanza in alto da far vedere lui Siamo disperati Oggi un disastro Oggi a livello di riprese è un disastro Vai, prendi anche quelle Lo vuoi un bellissimo No, siamo obbligati Perché altrimenti credo che non compaia quello dopo Bello, bello Sì, sì, sì Molto bello 413 Oh, oh, guarda Guarda Oh mio Dio Vai, vai Vai Scusa Do priorità a lui piuttosto che al Magikarp No, certo, sinceramente è Magikarp 482 Allora, stiamo calmi Bacca Ok, bravissima E poi una bellissima Megaball Vai Assolutamente Vai Arancione anche così Quasi rosso, è rosso L'hai visto che è molto più scuro Forse dobbiamo usare addirittura un Ultraball Sinceramente ne vale la pena Sì, 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 sì Un'altra bacca e Ultraball Non voglio rischiare 482 di Charmander Che poi sinceramente non so se con gli ultimi aggiornamenti le bacche siano utili come lo erano anche prima Ma però Aspetta Infatti sospetto che ti attacchi Vai Ok, ok, ok Dai Fai da bravo, fai da bravo, rimani dentro Speriamo, speriamo Ci servono queste 3 caramelle perché ci avviciniamo davvero tanto a Charmeleon Non ci posso credere Accidenti a te Vai, vai Accidenti a te Dai Adesso devi restare, guarda Ti stiamo già dando troppo, fai lì la ramanzina Non te le meriti queste bellissime Ultraball Le abbiamo farmate con tanta pazienza Ok, ok, ok L'abbiamo preso L'abbiamo preso Prima cattura del giorno figa Ce l'abbiamo fatta Oh, finalmente trovi Guarda quanto siamo Guarda quanto siamo Ci siamo vicinissimi ormai Uh Un po' di magi Magi i carperi sono belli Lo sai che se alla fine riusciamo a farlo evolvere è davvero una piccata E poi sono sempre scarsissimi Quindi li prendi con la prima pokeball Li prendi con la prima pokeball Esatto, esatto Sinceramente fanno anche comodo Guarda, tanto servono solo per caramelle insomma Esatto Guarda Non servono ad altro Quindi vanno bene anche se Ci vorrà una vita a farlo, lo sai vero? Però quando potremo averlo Siamo a 16 Siamo a 16 Sinceramente siamo partiti bene Vai io ancora Ce la puoi fare Ce la puoi fare a cliccarlo Ok Adesso non mi riprende devi stare Perché sta un po' lagando È notato Non mi prende subito Oh questo è un 85 Non scherziamo Dai Se questo è un Magikarp forte Fatti prendere e non stare lì Io non evolvo un Magikarp prima di vederlo almeno a 300 di potenza comunque Non ci credo Tentacool Oh yes È bello È anche un Geodude È anche un Geodude Però Tentacool è fighissimo Fighissimo 262 Stavo per cadere Dici poche bollo Vai lì Grazie Me l'ho buttata per terra Sì vedi Megabolo Dai Facciamo bacca Ok Vuoi andare di tutto Non è che sia così importante Tentacool Eh però è carino E poi comunque Si evolve Tentacool vero? Eh credo di sì Eh perché secondo me ne abbiamo già abbastanza Allora mi sta picchiando Vai Io te lo dico Ti vuole picchiare Sì mi vuole picchiare Ti ha visto ha detto che sia un po' tipattica Mi sta dando fastidia adesso lo schiaccio Ma che schiacci In realtà lui è solo una piccola medusa No è gigante come medusa Se la vedi in mare piangi No no assolutamente no Lo schiacerei Vediamo con te caramelle siamo 33 di 50 Vedi ricordavo bene Siamo abbastanza vicini Oh guarda hai visto chi c'è? Goldin Clicca 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 Sto lasciando perdere i pokemon che abbiamo sentito Geodude è l'ultimo delle cose interessate Bacca No vabbè vai così vai così Goldin l'avevamo trovato una volta con l'uovo Quindi forse anche di questo abbiamo già un po' di caramelle Speriamo Così iniziamo ad avvicinarci già per il prossimo video di evoluzioni Che secondo me sarà carino vedi? Ricordavo bene 32 su 50 Non male dai prendiamo su Sì dai Che fermo qua da aspettarci ormai Si sta aspettando Ce lo sta chiedendo 466 Io lo chiamo ma almeno un squirtle Non chiedo neanche Blastoise o War Tartle No no è andando proprio Uno squirtle mi sembra il minimo no? È storto Prossima tappa sarà andare al mare Esatto Al mare perché ci avete consigliato Non so quanti ci avete iscritto di andare al poetto Lo sappiamo già da un bel po' di tempo che è il posto migliore Il problema è che come sapete chi è di Cagliari appunto C'è un sacco di gente Quindi dovremmo andare la sera Ed è complicato perché noi la sera pubblichiamo il video e stiamo dietro ai commenti Quindi dobbiamo trovare diciamo un modo per organizzarci Cagliare di trovare un compromesso mettiamola così Esatto Magari ce nemmo un po' più tardi Vedremo un pochettino Esatto Però ci andremo almeno una volta Anche perché magari registrare che c'è magari dietro le persone che si prendono il sole Non mi sembra neanche tanto il caso di sfruttarli Esatto Non sembra Non in costume tu con la videocamera Non sembra una cosa carina Cos'è? Oh finalmente Si Oh mio dio Oh mio dio Non impazz... respira Oh mio dio Non l'abbiamo vista Ma infatti diceva perché non stai impazzendo Usa una megaball a priori anche se è da 98 Non mi interessa Vai 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 Oh mio dio Me ne hanno messo uno dopo l'altro Era un impazzire continuo E' il primo drattini Infatti diceva perché non stai impazzendo Non l'ha vista Mi è sembrato un orsi No 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 Capito perché Stesso colore mi sembrava lui Ho il cuore a mille Sono troppo emozionata perché questo pokemon lo volevo da una vita Guarda Non l'avevamo mai catturato Finalmente un nuovo pokemon registrato Ma c'è grossa anche oggi C'è grossa anche oggi Riparte l'hashtag Guarda anche Poliwag Sono felicissima 319 Io gli do una bacca Quella che aveva mai voluto era quanto era? Non mi ricordo più Anche io Io gli do una bacca E uso anche la mecca Ci riguarderemo il video per ricordarci da quanto era Per sicurezza Si almeno è giallo E dovremmo riuscire a prenderlo subito Ok ok Sono felicissima Si sta arrivando abbastanza Cioè molto proficua tutta No no Sta andando alla grande Due video di fila che vanno bene con la caccia ragazzi Sembra un miracolo È bellissimo Assolutamente Vera se non ci fosse da tenere una videocamera tutto il tempo sarei più felice Pensi che lo faccio sempre io quindi Si ma la devo tenere all'altezza della Torre Eiffel Il fatto è che il cellulare è anche più pesante rispetto all'altra che è una videocamera molto picca 515 515 615 Megapolsi Assolutamente anche perché altrimenti ci scappa 2000 volte Io mi tengo sul palo per un po' ok Ti apposi Si 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 sto per collassare per terra Almeno siamo all'ombra e non c'è caldo bisogna dirlo Almeno quello Anche perché è luna perché come sempre noi tra una cosa e l'altra usciamo sempre troppo tardi Quindi almeno non c'è caldo perché abbiamo trovato il posto all'ombra Preso? Bene 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 adesso Allora vedo che siamo a 13 minuti quindi più o meno siamo a metà poco meno Si guarda E già è andata alla grande Se facciamo una cattura grossa grossa come può essere Che cos'è? Magical Guarda! 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 C'ha forza! Non si credo! Soldero mio Dio! Allora E' tantissimo aspetta calmi tutti Bacca e Ultraball Bacca! Ultraball Oh mio Dio Non rischiamo di farlo fuggire Guarda ogni comparsa di Pokémon è un urlo ormai Meno male che c'è poca gente in giro oggi perché davvero Non mi interessa nulla guarda è troppo epico Cioè È troppo epico Siamo già a due Pokémon del Pokérex Nuovi no 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 Mamma mia io l'ammazzo Io gli spacco la foccia Non l'hai visto ho provato ho usato tutto Io l'ammazzo Lo vado a cercare a casa Ma non ci credo Non ci posso credere Che poi è scappato subito dall'ultrable È scappato subito e gli avevo dato una macca Cioè non l'ha manco sentita quell'ultrable Ma vai 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 che schifo qua non me ne frega niente di te Oh mio Dio Oggi ti ammazzano Secondo me dovrò passare in tutto il video le urla di Feriniche Oh mio Dio Cliccalo Cliccalo veloce Allora Non ci riesco Allora Non me ne frega nulla Oh mio Dio È troppo bellino Bacca e ultra ball Bacca e ultra ball È troppo carino È troppo carino È troppo carino Altrimenti lo fai scappare con le te urla Ma guarda È fantastico È fantastico Ma scherzi Quanto lo dà? Ok verde Teoricamente No Allora Hai visto che fa l'attacco classico da foca? Non sta fermo Aiutami Vai Aiutami non sto fermo Quanta gente ha giocato malissimo Non mi serve È fantastico No 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 Non ci credo Io lascio stare fuori in terra adesso Io non ci credo Perché? Perché mi stanno capitando queste cose brutte? Perché? Perché urli troppo Ma stai zitto Guarda Mi fai scappare tu Con le tue urla No vedi questo lo digerisco meno dell'altro Perché l'altro sinceramente era un bollusco che poteva anche morire Lui è troppo carino Sono delusissima Non ho parole Di nuovo il cuore spezzato adesso Come minimo deve venire Blastoise a consolarci Si Ma minimo proprio eh Comunque è colpa del gioco che li fa scappare troppo è colpa del gioco E comunque di sicuro faremo almeno un altro video in questo posto perché ho già capito che fa No la prossima volta poi ci metto col mio account e farmo No Mi dispiace Ok Ok Goldin non è male dai Goldin è un pokemon che continua sempre a piacermi Anche se al momento non riesco ad essere felice di nulla perché sono davvero troppo delusi Lo so Come è possibile? Li è passata dentro quella pokemon? Anche adesso Nuo bug è trasparente Tira più piano Ok ok Al testone Forse mi passava tra la Nella coda Capito Secondo me la coda non contava da poter colpire Allora almeno tu rimani dentro ti prego che comunque le tue caramelle le vogliamo Forza Orsi è carino E poi l'altro era tentacule di nuovo? Si tentacule Oh Allora bacca E pure ultra ball Esatto esatto E se ci scappi pure tu ce ne andiamo anche se sono ancora attivi Vai Esatto me ne vado via Me ne vado via Comunque davvero io non lo digerisco Cioè usando l'ultra ball erano verdi Erano verdi E sono usciti e scappati al primo tentativo Ma poi al primo No Ok Tutto disgraziato Vai da bravo Ma che sei solo un cavalluccio marino No mi sto arrabbiando perché erano verdi Abbiamo fatto le cose bene e non dovevano scappare Cioè no capito Questo è già una buona cattura Posso capire se fosse rosso Io lo... Guarda Esatto Potrei anche capire Esatto Ma no Allora Ti fa pure la mega ball per sto coso Esatto vai Ti fa pure gli attacchi Ok Rimani dentro o scappa Guarda Ti giuro non ti voglio mai più vedere in vita mia Ma guarda se scappa me ne vado io Te lo dico a un'altra No 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 Non te ne vedo nessuna parte Non la spreco un'altra mano Gli altri non sono tentacchiule d'orsi scusami Ho visto solo orsi L'altro non l'ho visto Ti dico la verità No sono due orsi Due orsi Oh Non male Eh si vanno due orsi giusto Si ed è figa pure l'evoluzione Ma se non ricordate adesso Quindi sinceramente Che dico Vai 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 Guarda che rafforso È il momento della riscossa Dai dai Dobbiamo catturarlo E non me ne vado da qui finchè non lo catturo Bacca e ultra ball È uscito di nuovo potentissimo Il che rende tutto più difficile Vai Metti quell'ultra ball Ma anche più divertente dai Metti quell'ultra ball e tirala Ti prego Dai dai Facci finire il video in bellezza Dai ti prego Uno Due Sì 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 Meno male Ce l'abbiamo fatta Almeno l'abbiamo preso L'abbiamo preso L'abbiamo preso Mio dio guarda Non avevamo altro Pokémon per il Pokédexon Felicissima Oggi stiamo andando benissimo Felicissima assolutamente sì Ok prendi quel bellissimo Magikarp Wow È un'emozione vedere sempre Magikarp Allora Ascolta ci servono Lo so che sono bruttini Non usano a me Gabbo Guarda te l'avevo saltata Vedi Ha detto che era troppo poco Una Pokéball per lui e quindi l'ha saltata Perché mi fa schifo È bello l'evoluzione Ma è inutile È un pesce inutile Eh ma appunto All'evoluzione ci devi arrivare in qualche modo Guarda che ti riscappa E a furia di insultarlo se ne va Prossimi video Allora Di sicuro una volta il Poetto Che per chi non lo sa è il mare di Cagliari È il mare Perchè anche con quello vogliamo arrivare piano piano A devolverlo Assolutamente E mi sembra nient'altro Mentre speriamo che uscirà qualche aggiornamento carino Così avremo nuove cose da fare E appena ci torna la videocamera potremo pensare di fare anche un video dove magari attacchiamo le palestre in contemporanea Vediamo magari di trovare un modo di organizzarci Perchè ovviamente ragazzi uno deve tenere la videocamera Esatto È tutto un po' difficile però Non avendo attrezzatura adatta a registrare fuori ci siamo dovuti arrendare Esatto Quindi tutto un po' scomodo Vedremo se ci riusciremo Comunque ci fermiamo così E chiudiamo con un bellissimo Eccan Oh lascialo lì Ci vediamo domani ragazzi Ciao ciao